Ed eccoci alla spiaggia delle Rosette di Tropea, in una giornata fantastica, mare cristallino, scogli, non si sa quando sono nati, e i più belli sono qui. Ciao a tutti! Ciao ciao! Stiamo aspettando l'onda, che ci arriva e ci prende, ci porta via con te. Ecco l'ecolo! Mare fantastico! Non si direbbe però, oggi si può. Ragione Filini è sceso in prima mattinata, in muta questa volta. Però in compenso c'è stata un'altra scena fantoziana. E' arrivata!